Il consulente finanziario non è un cacciatore di rendimento, il lavoro è un'altra cosa. Scavato l'invio, ok, volevo aggiungere, Mr. Epps sostiene che il piccolo e medio risparmiatore deve semplicemente istruirsi. Ai big, oltre all'istruzione, può avere senso la consulenza forfe annuale pienamente d'accordo. Assolutamente, sì. Pienamente d'accordo, è esattamente quello che dicevo io. Esatto, ma anche perché a livello di costi soprattutto è un confronto impari, nel senso se lo fai da solo, se hai dei capitali di un certo tipo, se non arrivi a un capitale di un certo tipo non ha senso andare a pagare una parcella anche se fosse lo 0,5 del capitale e non l'1 come era l'esempio nel commento di Mr. Rip. Però lo stesso non avrebbe senso, quindi se hai un capitale di un certo tipo e hai ancora tempo davanti a te ha molto più senso imparare perché poi soprattutto nel lungo termine, nel lungo periodo, questo andrà solo a tuo beneficio. Esatto. Il motivo per cui comunque noi non consigliamo tutti la consulenza, ma se no possiamo consigliare la formazione per dire, quindi ci capita spesso che non abbia senso la consulenza, però ok, formati, impara a farlo da solo, poi magari quando arriverai a un capitale di un certo tipo e non solo, avrai anche degli obiettivi di un certo tipo che non sai gestire tu, allora ha senso la consulenza, ma anche con capitali magari di 3-400 mila euro, se una persona è capace di farlo da solo, di gestire la parte psicologica che è la parte più importante, e non hai obiettivi particolari, fallo da solo. Assolutamente. Sicuramente è la cosa migliore, è che non è sempre così e non sempre si vuole fare da solo. Esatto, diciamo che è ovvio che arrivi a un certo capitale in cui per forza devi rivolgere a un professionista, se hai 3 milioni di euro va bene, si può anche fare da solo, però entrano in gioco certi meccanismi in cui a volte è meglio che faccia un professionista, però su quelle cifre lì, io, fate conto, appunto, ripeto, avevamo fatto uno dei primi video del canale, era proprio a chi convenesse entrare in consulenza, sotto i 300 mila, a meno di particolari situazioni, non ha senso, cioè proprio non ha senso, economicamente non converrà mai, perché bisogna farvi pagare una parcella che in percentuale è alta, quindi o ve ne fregate e dite io non voglio imparare niente, non me ne frega nulla, non mi interessa imparare, piuttosto sono disposto a pagare di più, qualcuno che gestisca per me il capitale, anche se so che potrei imparare, ma non mi interessa, va bene, ok? Allora anche lì su cifre comunque 150-200 mila già può comunque avere senso, se ne hai 50 mila no. C'è capitato, ma infatti abbiamo detto di no a delle persone. Sì, c'è capitato anche che qualcuno che fosse consapevole di non avere il capitale necessario per far sì che fosse sostenibile la consulenza, l'abbiamo magari voluta fare lo stesso per una questione psicologica, per dire a me non interessa pagare, so che pago in percentuale magari anche di più di quello che... Sì, pago comunque abbastanza in percentuale, però a livello psicologico mi interessa che ci sia qualcuno che mi segua nel mio esclusivo interesse. Allora ha senso, però deve esserci una motivazione forte. Se la motivazione è solo quella di ottenere più rendimento, se ci aggiungi dei costi non lo otterrai mai. Esatto, chiaro. Quindi se il tuo obiettivo è solo il rendimento, allora no. Ti piacciono i nostri contenuti, ma non hai mai avuto il coraggio di contattarci? Siamo una società di consulenza e formazione finanziaria. Prenota un appuntamento conoscitivo gratuito con un tutor di Piano Finanziario. Prenota ora su pianofinanziario.it slash informazioni. Il consulente finanziario non è un cacciatore di rendimento, non è questa roba qua. Il lavoro è un'altra cosa, infatti per esempio, visto che ci sono dei commenti e andiamo in diretta, per esempio lui alla fine diceva, sempre leggendo appunto questa mail, diceva come la maggior parte dei portafogli, comunque dei consulenti, alla fine perdano conto il live strategy della Vanguard. Eh sì, va bene. Cioè, se hai due milioni di euro e vuoi fidarti di metterli tutti in un unico strumento, va bene. Cioè, nel senso, se tu psicologicamente sei in grado di reggere un unico strumento, ma ben venga. Cioè, nel senso, ok, può essere che… Credo ci siano centinaia di strumenti che abbiano battuto i portafogli. Ah no, sì, ma assolutamente, ma figurati, l'S&P 500 lo batte costantemente, il portafoglio di quasi tutti. È quello che hanno almeno… Bitcoin negli ultimi anni ha strabattuto i portafogli di tutti. E quindi, domani, il nostro cliente più grande ha 10 milioni di euro. Cosa fa? 10 milioni di euro su Bitcoin? Non c'è solo il rendimento. In tantissime situazioni, il 90% delle situazioni che vengono a noi, il rendimento è una componente, anche abbastanza marginale, di tutto quello che c'è dopo. Perché c'è la tranquillità, le questioni delle successioni, la tassazione, il spostare i soldi dall'estero in Italia. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che fanno dire al cliente, ma sai che c'è, ma del rendimento chi se ne frega. Però ho tre fondi pensioni in Europa, come li riporto tutti quanti con l'Inps? Questa è una delle mille cose. È ovvio che il rendimento, noi cerchiamo di farlo, perché è il nostro obiettivo, è il nostro lavoro. Quella è la base, cercare comunque di fare il rendimento che il mercato offre, e questo si fa tramite gli ETF e i portafogli. Però non è solo questo, cioè è una parte, non dico quasi marginale come dicevi, però in alcune situazioni lo è veramente. Cioè, che il rendimento, fai un 3%, un 5%, non cambia quasi niente al cliente, perché non ti sta cercando per ottenere 2% di rendimento in più. Ma sta, dato che magari è un capitale… È in una situazione di vita che richiede certi tipi di accorgimenti. Esatto, e quindi a lui interessa più essere tranquillo sotto vari aspetti della sua vita, piuttosto che ottenere 1-2% di rendimento in più. Non gli interessa proprio. Esatto, esatto. Quindi questo, ripeto, questo non vuole dire, ah no, rendimento non esiste, chi se ne frega. Vuol dire che per alcuni tipi di figure il rendimento non è così importante. E sono quelle che devono rivolgersi a un consulente finanziario. Non tanto, se volete, se il vostro obiettivo è il rendimento massimo, prendete l'S&P 500 e seguite quello. Basta, è finita. Cioè, nel senso, non c'è, non ce ne sono altre di strategie che possano, nel lungo periodo, battere questo tipo di strategie. Sì, quello che infatti aveva fatto il commento, la mail a Mr. Rip, sicuramente era una persona che aveva bisogno, secondo me, di formarsi e farlo da solo. Perché il suo obiettivo magari era anche giovane, ora non mi ricordo se l'ha detto, però era giovane, voleva rendimento, e allora lì sì che ha senso formarsi e farlo da solo, perché non paghi nessuna parcella a nessuno. Non è la situazione in cui probabilmente gli serve un consulente. Magari tra un po' di tempo, quando avrà un'altra situazione, magari sì. Ma non adesso, se no non si sarebbe lamentato proprio del rendimento, non è basta, perché ha fatto anche altre... Esatto, e infatti adesso ci torniamo. Quindi, nel senso, non è che la consulenza finanziaria indipendente è esente da problemi solo perché è indipendente. Cioè, come tutte le cose, ci sono dei problemi. Cioè, la sanità in Canada funziona molto bene, ma non è che è perfetta. Cioè, ci sono anche lì dei problemi. La consulenza indipendente è la stessa cosa. Meglio della consulenza bancaria, ma allora non è che solo perché ti sei iscritto all'OCF, hai passato l'esame, sei il professionista più bravo del mondo ed è tutto perfetto.